attenzione pesca andresti a letto con la persona davanti a te ma che cazzo è scritta questa domanda leonardo leone benvenuto a denaropoli piacere piacere e grazie di avermi chiamato allora in questo podcast parliamo evidentemente di denaro lo faremo in un modo un po particolare non te lo voglio anticipare così lo potrai vivere l'unica cosa che ti avviso subito che devi sapere è che non è una lisciata di pelo non è una marchettata quindi saremo un po ruvidi è una cosa che accetti subito ora finiamo qua accetto pronto prima domanda mi incuriosisce leggendo di te nel web diciamo la tua gioventù quando eri bambino ti va di parlarne un po ok parto io da zero racconta da quando eri bambino da quando eri piccolo beh tu hai rapporti la turbolenta lenta turbolenta i miei si sono separati che ero piccolo mia madre è andata via di casa aveva otto anni e quindi questi questi scossoni apparentemente negativi ma con aspetti anche potenzialmente positivi hanno creato un'instabilità anche emotiva e quindi molto turbolenta sia a scuola sia fuori dalla scuola ho vissuto un po la solitudine in realtà poi la solitudine e la noia aiutano la creatività quindi ho trovato quella forza probabilmente che mi ha permesso di risolvere problemi sin da piccoli da piccolo che poi mi ha permesso da grande di risolvere prima problemi che magari altri non hanno risolto o che non risolveranno mai quindi questo non lo sappiamo quindi la gioventù è stata turbolenta per il resto mio padre mi ha dato dei valori importanti che sono quelli del rispetto dell'amore dell'aiuto che l'eredità diciamo più grande con genitore può dare al di là di un buon rapporto con tuo padre diciamo ci sono stati delle fasi a fasi quindi la prima fase è stata quella del non parlare con mia madre per anni quindi diciamo ripreso rapporto dopo i 18 e quindi nella prima fase ero attaccato a papà sono voluto rimanere con papà io e poi dopo invece quando inizi a crescere quando diventi adolescente inizi ad essere indipendente di testa sostanzialmente cerchi la tua identità il tuo la tua posizione nel mondo e quindi c'è penso per tutti un passaggio in cui i tuoi genitori non li vedi più come i genitori come papà col mantello supereroe e quindi entri un po in contrapposizione e adesso il papà che sei tu è diverso dal papà che hai avuto dipende da che punto di vista il tuo modello il rapporto beh sicuramente siamo due persone diverse quindi non esiste sì io ho fatto un'evoluzione come essere umano e quindi diciamo che il genitore è lo specchio della dell'uomo no così come l'imprenditore lo specchio dell'uomo quindi un uomo che non si è evoluto probabilmente avrà problemi anche da genitore così come da da imprenditore ovvio che non esiste la perfezione c'è un grande problema nel mondo che un mestiere come il genitore che il mestiere più importante è il mestiere che non è remunerativo ed è il mestiere più difficile nessuno disegna a farlo forse per questo che ho fondato una scuola dove aiuto le persone a migliorare le relazioni anche essere dei genitori e poi di questa cosa ne parliamo una cosa che balza all'occhio quindi con un'infanzia così si è partito da zero zero parli cerca di farmi domande specifiche dal punto di vista anche sotto zero perché anzi nella prima fase mio padre mi ha dato tanto perché mio padre aveva una piccola officina che comunque negli anni 80 ha girato 80 c'era più cash nel mercato e quindi il professionista così ma anche come il dipendente aveva più liquidità quindi sinceramente da piccolo non posso dire che a mio padre mi abbia fatto mancare qualcosa anzi al contrario credo che mio padre mi abbia dato anche troppo a livello materiale per le possibilità che avevamo fatto sta che poi abbiamo avuto una sorta di bancarotta perché mio padre diciamo non ha avuto nessuno che gli ha insegnato a gestire quel denaro che lui stava guadagnando quando l'officina è andata male ci siamo ritrovati senza niente a 15 anni ho dovuto smettere di studiare per lavorare quindi diciamo più che partire da zero secondo me sono partito da sotto e hai costruito tutto quello che hai oggi tu oggi come fai il denaro ma diverse aziende diverse aziende diversi settori ho iniziato con l'estetica diciamo il primo lavoro che mi ha portato denaro rispetto ai lavoratori da dipendente è stato l'agente immobiliare però avevo capito che non avrei scalato diciamo era un professionista e l'ego di fare qualcosa di mio mi ha portato a creare ad aprire una prima azienda che era un centro estetico solarium che ho fallito prontamente dopo sei mesi perché come la stragrande maggioranza degli italiani ma anche nel mondo si pensa che fare gli imprenditori sia trovare i soldi per aprire un'attività niente di sbagliato cosa che ho fatto gli soldi neanche ce l'avevo lì sono riandato sotto zero perché ho preso soldi a destra e a banca che non avevo e quindi avendo fallito il negozio mi sono trovato sotto quindi hai convolto qualcuno che ha investito su di te diciamo in un certo modo mi ha fatto un po di credito il venditore del negozio che era un negozio che era aperto non avviato perché quando l'ho preso un cassava zero ed è il motivo per cui fallito ho fatto un acquisto sbagliato mi hanno prestato dei soldi non amici altre altre persone quando è andata male come sei riuscito a gestire questa cosa qui perché è molto interessante questa cosa beh ho trovato molto spesso si sente parlare di corsi appunto per cercare l'energia la motivazione le informazioni diciamo avere uno che ti cerca per i soldi è un bel motivatore e quindi diciamo che questa persona ovviamente rivoleva i soldi indietro come giusto che sia io però non avevo in quel momento la possibilità di darglieli e quindi lì le cose erano due o cambiavo città e nazione oppure trovavo soluzioni la prima soluzione è stata trovare il modo di entrare a casa uscire da casa in colume gli orari erano particolari entravo da dietro rampicavo un po come i film no sembra una roba romanzata invece la realtà e per come sono fatto mi dava fastidio anche proprio il problema non era solo aver perso soldi o dovermi guardare le spalle era anche secondo me umanamente ognuno di noi ha una una provare una vergogna come adesso esatto e quindi questa situazione mi ha spinto a trovare soluzioni invece di mollare e iniziai a fare il venditore ma non di casa in questo caso rimasi in quel settore lì inizia a vendere cosmetici cioè rimane rimasi nell'estetica però da venditore questo mi aveva dato una visione anche di poterci far soldi ma inizialmente quello che mi ha dato perché era un guadagno stanza esiguo rispetto a quello che volevo fare due milioni due milioni e mezzo guadagnavo di lire le lire però questo mi permise di fare poi un accordo con quello lì di dargli degli interessi mensili così lui stava buono quindi ha gestito poi il problema della criticità esatto cioè quei primi quel primo mese primi due mesi che sono stati veramente di panico poi sono diventati invece un accordo e trovai subito la direzione per poter mantenere il problema è che davo quasi tutto a lui e quindi io avevo difficoltà a vivere in quel momento però hai comprato tempo sei riuscito a andare avanti esatto ma soprattutto tranquillità comprato quella tranquillità che poi mi è servita per lavorare perché avevo difficoltà anche a trovare la via ok e poi ecco nel lavoro cercai subito la soluzione per scalare quei due milioni perché se io dovevo da un milione e mezzo a lui e guadagnavo tra i due milioni e due milioni e mezzo per altri guadagnavo tanto per me guadagnavo niente perché faccio fatica arrivare a fine mese dopo che tu lavori tanto tempo nell'offline e quindi alla fine crei il tuo diciamo impero la tua attività diciamo florida a un certo punto decidi di andare online no non funziona non ha funzionato non ha funzionato così non credo che esista on off ok comunque credo almeno per tutti gli imprenditori io oggi non credo che ci sia come ti è venuta l'idea diciamo di ma di sviluppare ma non è un'idea mia nel senso quando vedi che il mondo cammina tu rimani fermo sta indietro quella realtà non tutti hanno fatto questo passaggio quello è un discorso di psicologia umana no cioè oggi per esempio ancora oggi nel 2024 sentiamo parlare di crisi crisi gente che fallisce ma se andiamo a prendere caso per caso tu vai a vedere che non è una crisi dell'impresa una crisi dell'imprenditore quindi la tua visione ti ha portato a considerare online come una strada obbligatoria secondo me l'ho fatto anche tardi e come hai fatto andare online cioè ha investito allora c'è un passo prima cosa hai fatto c'è un passo prima che gli imprenditori non fa non fanno che io fa non tutti però la maggior parte non fai ho fatto che quello del iniziare a capire di marketing cioè iniziare a capire anche nell'offline che tirare su una serrante ci sai faccio bene le pizze apre una pizzeria non può farti rimanere un pizzaiolo che è il proprietario del negozio il ristorante di una pizzeria e quindi io un passaggio importante che ho fatto proprio nel mondo dell'estetica non so se lo sai ho aperto più di cento centri estetici è poca roba l'ho fatto proprio perché ho capito alcune regole del mercato anche offline cioè che per far soldi tu devi avere clienti ma non basta poi devi farli spendere cioè devi essere in grado di avere un processo di vendita efficace quindi il sales e il marketing sono arrivati prima dell'online poi dopo ovviamente essendo ed erano già anche online questi questi no no quando io ho iniziato a studiare sales e marketing al 2002 2003 ma online c'era niente c'erano i primi siti ma siti proprio non c'era niente all'epoca era tutto volantino massimo striscione evento c'era neanche andavano di moda all'epoca non mi ricordo nemmeno camion vela c'erano i volantini le locandine gli eventi la radio facevo qualcosa sulla radio che altro c'era al porta a porta facevo il posta target quindi inviavo le lettere a casa delle persone che era roba che in america si fa dagli anni 70 anni 80 anche forse qualcosa in 60 e l'online e quando arriva l'online non è il marketing online delle tue attività o solamente quello ma è una tua presenza anche online no 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 io quando ho preso l'online l'ho preso per le mie aziende e basta diciamo che io facevo già un po di consulenza ad altri imprenditori quindi io la formazione che non era una scuola era la mia prestazione con alcuni miei collaboratori davamo supporto a determinato ad altri imprenditori ho avuto insomma database più di mille imprenditori e quindi questo supporto andava anche a risolvere problemi di mancanza di clienti piuttosto che di quindi tu ti occupavi di preparare altri imprenditori e lo facevi i mezzi tradizionali organizzavo degli open day abbastanza potenti strategie abbastanza utili quando arrivò l'online come ti dicevo secondo me l'ho capito dopo troppo tardi fatto sta che per recuperare mi mi avvicinai tanto ad una persona che lo stava facendo bene tanto da diventare soci stiamo parlando del 2013 e possiamo dire chi è e comunque una persona che nel 2013 è stato illuminare cioè lui in italia fatturava milioni sono contento di averlo anche supportato io nel senso che quella crescita che lui ha avuto nel nel marketing online l'ha avuta perché lui capiva di online ma capiva zero di imprenditoria quindi io l'ho aiutato a creare un grande team e quindi poi soltanto ha imploso per altre situazioni insomma non ha imploso ha fatto altre scelte e io lì già ho dubitato se prendermi un'agenzia di marketing e portare avanti un'agenzia in realtà non mi è fregato niente ma quindi si può dire che le tue capacità di aiutare gli altri imprenditori le portate a un certo punto online e le trasformate informazioni sostanzialmente no la formazione viene ancora dopo arriva ancora nel 2018 nel 2014 13 diciamo inizio ad utilizzare l'online per le aziende mie e collaboro anche con altri ma poi a un certo momento succede diciamo qualcosa di negativo per me nel 2017 inizio ad avere una crisi perché i soldi ce l'avevo mi era nato un figlio da poco tutto bene ma inizio a stare male non so se ti è mai successo però nella vita voglia il noi abbiamo un corpo che ci comunica e quindi io iniziamo nel 2017 ad avere delle crisi che avevo già provato anni prima crisi che mi avvisano sempre quando qualcosa nella mia vita non va o la relazione con fianco non mi va bene o nella vita non va bene qualcosa il mio corpo parla tipo mi viene un po d'ansia non riesco a dormire nel 2017 quando meno me lo aspettavo perché diciamo avevo raggiunto gli obiettivi insomma quelli per me importanti la famiglia il figlio la casa al mare la piscina la vista al mare la ferrari tutte le cose che per me erano c'è l'arrivare no quindi avevo pure una serie di negozi una trentina di negozi insomma bene e dici com'è che arrivi a casa di sera fatto sta che andai via di casa lasciai mio figlio piccolo mia moglie andrà in spagna per l'estate insomma feci cose che non sono da me insomma lasciare una famiglia così perché ho detto che c'è che non va e lì scopri nel tornai a roma e andai in una mia casa dove stavo da solo per stare un po da solo non sono ritornato a casa sono stato quattro cinque mesi lontano dalla famiglia lì capì che il problema non era materiale era interno cioè avevo smesso di crescere come persona non ero più soddisfatto non avevo più voglia di mettere il piede fuori dal letto credo che questi imprenditori credo che gli imprenditori questo problema abbiano più o meno chi ha fatto soldi l'abbiano vissuto tutti perché se ti muovi per i soldi poi raggiungi soldi in certo momento di trovare un altro motivo per fare delle azioni infatti c'è chi poi si droga chi vizio del gioco guarda quanti calciatori l'obiettivo non è legato allo stato d'animo della felicità necessariamente non devi capire cosa ti rende felice perché se ti rende felice far soldi dopo che le fatti prima o poi saturi e poi dici cazzo ma i macchine c'è l'olio roggi c'è l'olio barca c'è l'olio figli c'è l'olio tutto io sono dipende un po anche dalla personalità che bisogno di stimoli io lì spesso ci si rende conto di quali sono i propri valori davvero quando raggiungi certi risultati e poi magari non ottieni dall'altra parte quello che volevi hai detto una cosa giustissima le persone questo non lo chi non ha soldi per esempio non lo capisce perché pensa che i soldi saranno la risoluzione del problema e soprattutto chi non c'ha soldi dice che i soldi non sono importanti invece soldi sono importanti sono molto importanti perché senza soldi non riesce a pensare alle cose importanti certo non riesce a pensare all'amore non riesce a pensare ecco la creatività la soddisfazione personale allora in quel momento io ho dovuto fare un cambio importantissimo dell'essere che già e come l'hai fatto questo l'ho fatto da solo introspezione beh io mi piace molto ho saltato tanti passaggi importanti crisi personali psicologo no studio studiato psicologia alla fine ci sei arrivato tu ci sono però ho fatto un lavoro prima certo nel senso qui adesso non te l'ho detto però che so due anni tra il 2009 e il 2011 dopo un incidente fatto un lavoro molto spirituale molto spirituale cioè cose un po strane pure seguiti da uno sciamano fatto cose molto è una cosa che provato anche ok invece prima tipo dal 2000 2000 al 2004 un lavoro molto psicologico cioè mi sono letto tanti testi come come hai capito che sei arrivato alla soluzione di questo del tuo io della tua felicità di quello che cercavi come capito che hai trovato quello che a quel punto ti mi avrebbe motivato certo ti avrebbe motivato 2018 questa situazione sì quando quando ci piace qualcosa non è mai casuale quindi quando tu sei attratto da una donna da un uomo da un lavoro da una macchina anche se può essere una stupidaggine o da un viaggio non è mai casuale quindi devi capire che cosa c'è dietro no io in quel momento la motivazione non ce l'avevo per niente c'è la depressione che cosa è quando tu non hai voglia di niente oggi sei felice sì cioè quando tu non hai chiudo questo passaggio quando tu non hai stimoli nei stimoli allora lì iniziano le paturni iniziano mal di pancia oppure magari dei stimoli ce l'hai ma c'hai tante cose negative dentro o intorno a te che non vanno bene da sistemare in quel momento io isolandomi dalla mia famiglia ho detto ok questo l'ho tolto questo l'ho tolto lavoro non ho bisogno problemi di soldi non ce n'erano stando a casa nella vecchia casa mia ho iniziato a guardare nei cassetti lì ho trovato delle cose che mi hanno dato poi degli elementi lì ho capito che il problema era proprio io e ho detto che mi diverte ti giuro pensieri che ho fatto detto quasi quasi visto mi piace stare in mezzo alla gente mi metto a fare l'attore mi metto a fare il giornalista ho pensato ste cose qua mi metto a fare perché avevo bisogno di interagire ho bisogno di stare con le persone forse perché mi sono mancate le persone quando ero piccolo mi è mancato l'amore non lo so mi è mancata l'importanza magari i miei genitori non non mi hanno dato ma non ho percepito diciamola così no detto che cacchio che così quindi c'avevo sta roba e aprendo un'agendina di un corso che avevo fatto proprio nei primi anni 2000 sulla vendita non era un'agendina era un quaderno dove io facevo degli esercizi e scrivevo gli obiettivi nell'ultima che la terza di copertina proprio alla fine del quaderno c'era scritto sulla parte dove a me non piace nemmeno scrivere che la parte dura c'era scritto voglio diventare il formatore più bravo d'italia e io lì erano vent'anni che non pensassero boom mi ricordo che mi cadde lasciai cadere il il quaderno per terra perché come se c'hai un flash perché io mi ero innamorato metaforicamente parlando del formatore che mi faceva i corsi di vendita ok dell'epoca che non credo esista più una roba insomma uno manco mi ricordo e praticamente questo personaggio qua mi aveva fatto innamorare perché era un personaggio grande era grande parlava un po romano così però lui si era formato in america ed era molto forte lui faceva proprio formazione ai team di vendita anche le aziende ed era molto carismatico e mi aveva iniziato cioè quello che lui mi aveva dato non era solo imparare a vendere mi aveva dato la motivazione mi aveva dato le motivazioni l'energia la visione lo stimato cioè avevo comprato lui come uno status symbol quindi io ho detto se io divento come lui non solo faccio soldi come fa lui ma faccio fare i soldi alle persone aiuto le persone quindi l'ho vista come una roba però non so perché è finita là perché io poi ho venduto cosme cioè ho fatto tutta la mia parte prima parte di carriera a vendere cosmetici chi c'ha più pensato una specie di sliding doors si è rimasta la sta roba poi invece quando aperto sto quadernino è stata proprio un tuffo nel passato in quell'emozione in cui l'ho stato detto cazzo adesso tutto per farlo quindi lì finalmente mi si è mi si è illuminato dillo tu perché la terza volta che ci provo vai online no no sì 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 diciamo se per te andare online perché io io non differenzio sì io parlo di online il fatto che tu i corsi li hai fatti in aula però online faccio dei primi video arriva il personaggio il personaggio ok sì esatto ok sì se quello intendi quindi personaggio io penso che tu avevi una voglia di esprimerti anche attraverso all'online che è diverso piuttosto che parlare con le singole persone ma posso dirti la verità secondo me in quel momento avevo bisogno di sentirmi importante utile al mondo e quindi questo questo primo affaccio sull'online che era proprio facebook i primi video ho fatto a fine 2017 erano proprio per dare gratuitamente alle persone la mia esperienza e sentirmi utile certo ok e quindi sì lì sono andato online su quello che non era roba di marketing quella roba che ho fatto per il piacere di fare io mi ricordo nel 2020 credo che tu quando facevi video che andavano virallissimi dico al passato perché parlo mi ricordo di quel periodo parlare anche di politica è possibile politica no forse contestavo contestare sempre ma una cosa che ti piace una cosa ti interessa la politica io penso che se chiunque prendiamo in italia soprattutto se imprenditore gli facciamo un po di domande la prima cosa che ti dice come organizzata l'italia sotto il profilo della burocrazia le tasse il mondo del lavoro quindi la contribuzione chiunque quindi io diciamo che non è che l'ho mai vista bene da quel punto di vista sotto pandemia sono impazzito io avendo avuto già accesso a determinate informazioni poco prima del blocco ma anche un po prima quando ho sentito delle cose la tv io infatti io ti vedevo ovunque sotto pandemia io stavo in repubblica dominicana perché ho deciso di stare poi lì nel mio giro del mondo e mi ricordo che vedevo un sacco dei tuoi il che giravano facevamo tipo 18 milioni al mese di visualizzazioni sono una roba pesante noi live andavamo a volte in 15 mila persone come salvia all'epoca salvini era in auge no io facevo le delle diette dai 5 mila e 15 mila pazzesco sì sì l'ho fatto ecco anche lì lì non ho pensato a sentirmi importante lì ho pensato a dare qualcosa alle persone perché io adesso non mi va di riaprire quei temi però diciamo iniziando a dire che il covid è una roba venuta dal banco del pesce ha premuto un bottone secondo me importante che si ingiustizia quando tu menti a una persona quando tu raggiri una persona violi secondo me violi per me un valore importante nella vita che è quello della della essere integri sinceri etici e quindi quando sentivo quando ho sentito proprio un'intervista una sera mentre ero in doccia durante un mio percorso live un academy ero in doccia c'era mia moglie che non era mia moglie in quel momento di la televisione alta sentivo che davano ste notizie questo che dice ci saranno milioni di morti perché il covid con questo pangolino con tutte minchiate io sapevo che era una roba sono mancati dei riferimenti importanti in quel momento allora in quel momento ho sentito proprio una grande menzogna ok allora io la mattina senza aver pianificato nulla senza aver ragionato su nulla dico ai miei dico ragazzi domani mattina era la domenica mattina me lo ricordo benissimo forse il 23 febbraio il 24 20 febbraio 2020 dico ragazzi vado live cioè faccio una cosa non mai fatto dal mio evento offline vado live mezz'ora per parlare di sta roba del covid che c'entra niente con la visibilità che avevi non hai avuto paura che dire certe cose avrebbero potuto creare allora non ci ho pensato l'ho visto dopo è successo dopo le iene a zanzara critiche imprenditore tra complotti e covid stupidaggini che hanno detto ma io non sono un complottista io sono mi definisco un realista hanno definito complottista raidaglio perché ha comprato delle degli strumenti che gli facevano guadagnare se non lavava la borsa quindi in quel periodo era abbastanza semplice allora il discorso è che le etichette che si mettono di solito si mettono perché l'essere umano ha bisogno di etichettare per conoscere e riconoscere in altri casi viene fatto per interessi e quindi quando una cosa io la voglio arginare sistemare organizzare o discriminare allora ci metto un'etichetta l'etichetta secondo me complotto e l'etichetta secondo me chiaro c'è solo interesse quindi l'essere umano noi tutti come te max come me ognuno ha i propri interessi soltanto che ci sono delle persone un pizzico meno etiche che per i propri interessi si associano ad altre persone e fanno delle merdate nei confronti delle persone o non l'ammettono perché non vogliono ammettere questo nasce secondo me non so se tu te lo ricordi ma non so se c'eri tu quando c'era gesù però all'epoca di gesù e barabba no gesù fu giustiziato da chi da pilato no dalla folla certo perché perché la folla era stata indotta a credere che gesù fosse certo quello che doveva essere ucciso rispetto a barabba quindi secondo me oggi possono capitare queste cose non dico tutto il mondo è così però ci sono delle situazioni molto cointeressate come che ne so i media che ricevono soldi e finanziamenti dallo stato e ricevono soldi anche da chi pubblicizzano aziende che devono controllare ma sono finanziate dal controllato beh questo ragazzi non è complottisti essere realisti quindi io non sono un complottista sono un realista non mi alzo la mattina pensando che quelle famiglie hanno danneggiato il mondo io credo che ognuno si deve alzare la mattina per migliorare la propria vita però è ovvio se io sento alla radio alla televisione che dicono delle boiate troppo boiate quella mattina ho fatto una diretta ho detto ragazzi non credete al pesce pangolino e a quell'altra roba lì all'incrocio di questa roba perché è una roba che viene dal laboratorio purtroppo l'essere umano fa delle cose magnifiche ma fa anche delle cose terribili e questo virus è stato creato in laboratorio quanto pensi che ci metteremo a pagare il problema che è arrivato con il covid nell'economia nella nostra vita privata nel nostro condizionamento psicologico perché le persone sono state chiuse due anni sai max secondo me io anche questo ho detto dopo nelle varie dirette dopo aver fatto un po' luce secondo me non è arrivato solo negativo secondo me chi è stato in grado nel 2020 di capire la disgrazia o comunque il problema è stato in grado anche di trovare soluzioni quindi chi è rimasto fermo è rimasto indietro io per esempio il vantaggio che ho avuto nelle mie dirette gratuite che ho fatto con l'intento è stata una visibilità a non me lo dire a me io stavo in Repubblica Dominicana andavo live alle 21 italiane avevo il sole in Repubblica Dominicana avevamo un ascolto assurdo e il digitale ha reso tantissimo ma anche le società in borsa a Zoom ha raggiunto delle quotazioni che non... quindi realmente ma non solo questo io ti dico che molte persone costrette a fermarsi sono state costrette a pensare a trasformare perché tu eri già nell'online se non fossi stato nell'online anche però facciamo proprio un passaggio io lavoro molto sull'essere per me è importante la persona al dire il business il business è un riflesso le persone sono state costrette a fermarsi Max e a guardare la propria vita c'è chi è impazzito chi l'ha rovinata peggio chi si è separato chi invece ha preso quello spunto per dire oh ma veramente voglio far... è cambiato il concetto di libertà oggi molte persone vogliono lavorare smart working esatto esatto perché hanno deciso che negoziare la loro libertà con il lavoro eccetera ha una valenza diversa dal 2020 credo quindi vedi non è arrivato solo negativo poi è ovvio se tu mi dici l'aspetto negativo che ci... gli aspetti negativi che sono arrivati dal covid ancora li paghiamo secondo me a livello statale sì quindi lo stato sì a livello anche economico no di bilancio di stato abbiamo un buco pazzesco soldi recuperare i costi dell'iniziazione che sono saliti i soldi che ho perso io anche con le mie aziende saranno lì li ho persi punto certo così come l'hanno persi molti altri l'hanno fatti o qualcosa io magari posso aver guadagnato invisibilità però in realtà quello che è andato è andato bisogna per far sì che la perdita sia cancellata da un guadagno ecco fare in modo di imparare chi era offline come hai detto tu ha dovuto per forza di cose capire che non puoi vivere solo per esempio un ristorante senza delivery non esiste allora tutti volevano lanciare il delivery perché hanno capito che... l'italiano che aveva paura di inserire i numeri della carta di credito perché mi fanno le truffe cioè oggi insomma un po' tutti fanno acquisti online abbiamo fatto un balzo in avanti di dieci anni non siamo arrivati sempre al passo dell'America con l'innovazione con tecnologia con il business in generale ma comunque l'Italia un pochino si è rimessa in corsa c'è un tema che ci tengo a chiederti quindi nel mondo della formazione online sono cambiate diverse cose come in ogni tipo di attività e si è creato tutto un segmento sull'attenzione ai formatori ai programmi alle promesse ed è nato questo termine fuffa guru secondo te cosa significa? ma allora l'online amplifica tutto ok quindi quando tu prendi un qualcosa che amplifica sostanzialmente è il rischio qual è che qualcuno che truffa può truffare più persone quello che succede anche nel network marketing molti credono che tutti gli network marketing siano schemi ponzi in realtà no dipende chi ci sta dietro gli schemi ponzi in vendita diretta sono molto difficili col network marketing è un attimo ok fai la promessa grande non sostenibile ma tanto guadagni con quelli nuovi che arrivano con l'online è la stessa identica cosa vince diciamo apparentemente immediatamente vince chi la spara più grossa e quindi lì nascono i fuffa guru lato formativo non solo ma soprattutto i fuffa guru del marketing che la sparano sempre più grossa e quindi se la domanda è esistono dei guru fuffa assolutamente sì sì il punto è quando in qualche modo si fa una promessa per esempio tu sei l'esempio di una persona che si è realizzato nella vita ma anche economicamente penso che le persone che vengono a te siano interessate a tutte e due le cose come persona se è un riferimento e poi dal punto di vista economico per me non devono essere separati ecco come dicevo l'essere è sempre colui che puoi creare l'avere quindi quando le persone ti seguono come modello cioè in qualche modo vorrebbero ottenere sia quello che hai ottenuto tu che essere un po' come te quando secondo te trasformare questo in una promessa nel senso in una possibilità può diventare un problema perché qualcuno potrebbe cercare di essere così ma non lo può essere o cose di questo tipo quando questo potrebbe diventare una promessa irrealizzabile secondo te se c'è questo problema questo rischio dal punto di vista anche etico quando nel senso quando con quale prodotto in quale modo quando tu dici che fai un percorso di trasformazione per esempio tu fai un corso secondo me tutti possono avere successo tu mi dici Leonardo tutti possono avere successo ecco questo è il punto tu questa cosa la credi davvero? ecco perché ti dico poi dipende bisogna contestualizzare capire quale successo relazionale, personale, economico di tempo perché dobbiamo anche capire Max che non tutti abbiamo gli stessi obiettivi quindi tu parli di un bicchiere che può essere pieno nel suo limite non del fatto che tutti possiamo essere secondo me non abbiamo limiti ma chi l'avrebbe mai detto che io sarei stato a capo di ne so più di 400 persone aziende, formazione io il mio massimo obiettivo mi ero dato Max era 3 milioni di lire di guadagno al mese quindi tu credi che non sia possibile stabilire il limite e le capacità di una persona? per esempio quel ragazzo che andava a scuola ed era bocciato può diventare un'altra persona? io ero inaffidabile ero irruento manesco non sapevo gestire le emozioni manesco e su che picchiavi? ero un po' da ragazzino quindi secondo me oggi sono contro la violenza e sono contro le persone che alzano la voce i miei vecchi amici in diversi casi uno mi ha detto te è successo te sei drogato troppo uno mi ha detto t'hanno rapito gli alieni e sei tornato c'è un file che non è il tuo l'altro hai caduto e sbattuto la testa non mi riconoscono ormai i miei genitori si sono abituati alla mia nuova versione ma se tu prendi mio padre gli chiedi chi era Leonardo da piccolo io neanche la cosa che adoravo di più rispettavo faccio un esempio adoravo la moto facevo del tutto per avere la moto e prendere il patentino a 16 anni non mi alzavo per andare a fare l'esame e non ho preso la patente l'ho presa dopo cioè anche la cosa oggi anche se vado a domine alle 4 io più tardi delle 8 8 e mezza mi riesco a calzarmi senza sveglia è un'altra persona quindi io credo che chiunque può fare questo ovvio tu mi dici Leonardo come può uno che è inaffidabile che non sa gestire le emozioni un poco di buono uno pure che ha fatto reati come può diventare un esempio devi fare un grandissimo lavoro sull'essere ma grande anche doloroso e questo cambiamento può apparire da fuori in alcuni casi quasi come uno che ha picchiato la testa uno che va a una setta certo che ci sono delle promesse non sostenibili perché io ti posso assicurare che ho sentito promesse del marketing non sostenibili come promesse di diversi schemi ponzi non sostenibili molti sono saltati altri ne salteranno come promesse di formatori insostenibili quindi tutto sommato il fatto che si sta creando nel web un'attenzione a questo tipo di fenomeni con delle trasmissioni per esempio adesso è nata Fuflix non so se no Fuflix è diventata una trasmissione importante che attacca tutte le persone che cercano di fare ma pensa che me l'hanno proposto a me non ti dico chi qualcuno di importante mi ha proposto di andare a rompere le scatole a tutti sostanzialmente andando in trasmissione andando in trasmissione cosa che mi poteva dare un ritorno d'immagine ma secondo me non è così che si secondo me purtroppo voglio dare ragione al generale Vannacci noi viviamo in un mondo al contrario cioè invece di pensare che il carcere sia reeducativo noi lo immaginiamo per farla pagare una persona il tradito è quello che si vergogna perché è cornuto cioè noi viviamo in un mondo al contrario quindi oggi noi per migliorare il mondo vorremmo attaccare invece quella è un'altra forma secondo me di togliere tempo e attenzione alle persone secondo me cioè da quello che ho capito invece bisogna al contrario ad esempio Salvini si attacca a ragione su questo che bisogna fare qualcosa per il fermicidio fare qualcosa ma non bisogna fare solo pene più severe bisogna intervenire sulle famiglie sull'educazione di questi ragazzi in realtà il tema di Fufflix è quello di educare le persone cercando di fare attenzione aprire gli occhi rispetto a certe promesse che sono illegittimate perché poi c'è il livello della promessa è come dici giustamente io come faccio a sapere chi sarà il più bravo a fare qualcosa quando magari non ho visto che è in grado di farlo quindi come faccio a limitare qualcuno a stabilire il suo limite il problema è che in alcuni casi i messaggi sono così sbagliati fuorvianti che il tema di cercare di educare qualcuno ad essere attento al fatto che c'è una manipolazione che c'è qualcosa è diventato diciamo il messaggio di queste di queste trasmissioni io non conosco Fufflix però ti dico che a me mi hanno messo su uno di questi canali quando parlai del covid ok e secondo me hanno sbagliato perché io stavo dicendo cose vere che sono state poi scientificamente paramed così come Nature hanno dimostrato che questo virus è stato creato in laboratorio quindi io dicevo il vero eppure sono stato messo su sta roba qua di bove ultimamente alcuni youtuber allora il rischio il discorso è come facciamo a capire se quelli che poi vengono messi là sono veramente dei fuffoni sì bisogna capire se chi ti dice una cosa poi come te la dice alla fine ultimamente addirittura la RAI e Rete4 si sono messi a fare dei servizi e di mezzo diciamo ci sono andate persone che sono dichiaratamente diciamo toste con le proposte che fanno e persone che invece magari fanno una certa educazione e le hanno messe nello stesso servizio e si sono poi lamentati del fatto che a me con l'aliene mi hanno messo nello stesso servizio di quello che dice che la terra è piatta di quell'altro che dice che è un alieno cioè è questo il problema allora quindi io non so come sia sto fuffix però cioè se è fatto bene può essere buono secondo me se vogliamo migliorare il mondo lo dobbiamo migliorare certo punto migliorare vuol dire che come diceva Gandhi vuoi che questo mondo sia migliore diventa migliore certo sì il cambiamento che vuoi in questo mondo semplice quindi se io ho sempre creduto che tanti formatori sono ciarlatani perché io sono il primo che mi sono formato speso milioni sì milioni perché pensai che solo una ricerca su una roba per il personale l'ho pagata presa in America 160.000 euro solo una consulenza su quella roba là per dirti quindi secondo me forse un milione ci sarà arrivato allora il discorso è questo la formazione io invece di andarla ad attaccare parlo del 2018 io l'ho fatta ho detto sai che faccio creavo io una scuola cioè secondo me è così si migliorano le cose sempre a distruggere il lavoro degli altri perché se distruggiamo se mettiamo in galera cattiva va bene ma li dovremmo rieducare cioè dovremmo fare un altro oppure magari non mandare persone in galera innocenti in Italia si mandano tante persone in galera innocenti quindi tutto sempre sta sta roba a devastare a devastare a devastare secondo me noi italiani siamo bravissimi a devastare ma pochi sono bravi a costruire e anche a criticare è quello se ci può come hai tu sei una persona di visione comunque come vedi il mondo diciamo della formazione tra 3-5 anni nell'online o attraverso l'online perché uso questa parola impropriamente altrimenti attraverso l'online tra 3-5 anni dove siamo? allora se io non riuscirò a raggiungere i miei obiettivi più o meno rimarrà uguale se io riuscirò a raggiungere i miei obiettivi cambierà ah tu parli di trasformare sono così presuntuoso sono così presuntuoso che io credo di fare qualcosa di impattare per cambiare questo sistema in meglio chiaramente non ce lo puoi dire neanche un piccolo indizio ma come no? ce lo puoi dire? ma certo cioè attraverso quello che stai facendo che deve essere un segreto io mica lo faccio per far soldi cioè io l'obiettivo mio principale è quello di fare in modo che le persone capiscano che la formazione è è l'unica fonte di successo di felicità di amore che possono avere e quindi farò del tutto per prendere faccio un esempio ogni settimana non so quanti stadio in Italia ci siano però mediamente uno stadio grande porta 80.000 60-80.000 persone tu vuoi riempire questo? no sto facendo un calcolo numerico delle persone ogni settimana diciamo tutte le persone si intrattengono un po' col calcio un po' con Netflix un po' con quello un po' con quell'altro io non ho nulla contro l'intrattenimento però non possiamo pensare di vivere la vita al un terzo del tempo a lavorare in un lavoro magari poco retribuito che non ci piace un terzo del tempo dormiamo l'altro terzo del tempo che rimane a essere spettatori di roba che non ti dà niente sotto nessun punto di vista non solo la formazione fare soldi anche magari alimentarti bene capire come fare l'amore bene o come amare bene come creare una famiglia bene o come educare cioè qualcosa che ti può essere proprio utile non sempre solo a parlare di soldi certo e quindi io secondo me è una follia cioè se noi secondo me noi stiamo vivendo un'epoca che finirà e mi auguro di essere io uno di quelli che aprirà quindi tu pensi che sarà in grado di creare contenuti di valore importanti già lo sto facendo andrò in rai tra pochi giorni con un programma che parla di lavoro al punto da cannibalizzare parecchio lo spazio che in Italia è dedicato no questo non si potrà mai fare questo non si potrà mai fare quello che punto a fare con i miei ma io non sono solo quando parlo in secolare certo siamo comunque siamo una squadra sì ma anche i corsisti con l'amore a far questo è ad avvicinare i due mondi cioè a far sì che se io devo vedere un film bello ma che quella morale non mi crei altre credenze limitanti nella vita ma mi stimoli ad essere una persona migliore basta violenza ad esempio iniziamo a dare valore alle persone io per esempio Netflix ci sono anche tanti programmi bellissimi io consiglio a tutti di vedere la storia di Schwarzenegger la storia di Stallone cioè ma quella è roba da vedere e quindi non è che c'è intrattenimento solo negativo io voglio essere il papà ma se vuole essere qualcun altro vada eh non è che devo essere io soprattutto non lo fa nessuno io ho sempre costruito porte dove non lo trovate quindi non c'è una porta per far uscire le persone dalla schiavito in cui vivono mancanza di tempo mancanza d'amore mancanza di soldi non gestiscono un cacchio le persone e tutto quello che non gestisci ti gestisce e quindi quando tu non sai gestire il denaro la gente schiava per esempio venendo su ti faccio ridere voglio raccontarti questo aneddoto venendo su siamo venuti in macchina e ho dovuto fermarmi a mettere benzina e c'era la possibilità io nel senso oggi non ho difficoltà economiche ma metto sempre il self allora quando sono arrivato c'era il benzinaio che aveva il servito libero e c'erano i tre self occupati c'era solo un servito libero allora stavo mettendomi in fila al self ho detto adesso se questo self si libera metto self e vedevo che il benzinaio mi ha guardato visto che la macchina che abbiamo con cui siamo saliti è una macchina che costa nuova ho fatto la battuta ai miei ho detto questo starà pensando sto barbone c'è la macchina nuova e si fa la benzina e si fa la benzina ma in realtà io poi l'ho messa al servito per non aspettare quindi il tempo è più importante del denaro ma noi abbiamo messo 70 litri ci è costato 20 euro in più quel pieno 20 euro in più un pieno a me non fanno la differenza ma in realtà i soldi anche se ce l'hai non devono essere buttati quei 20 euro li metti in un salvataio a fine anno sono soldi se non ti servono perché sei ricco ci fai beneficenza come faccio io preferisco mettermi un minuto a mettere benzina anche essere criticato da chi mi guarda ci guarda quel barbone ma almeno so che darò a fine anno almeno 1500 euro in più il problema delle immagini nei paesi occidentali ce l'abbiamo tantissimo io giro il mondo ormai da 5 anni è una delle cose belle che fuori dai paesi occidentali nessuno ti guarda se vengono in ciabatti nessuno si accorge non devi dimostrare niente sei quello che sei e questa cosa ti toglie un sacco di energie e non ti buttate via allora questo è il rovescio di una medaglia che noi abbiamo noi italiani siamo ipercritici e ipercreativi oltre ad essere molto esteti molto bravi quindi questa qui è la parte nera della luna che noi abbiamo che è una buona luna che è quella di essere realmente forti ad avere occhio se tu vieni a altre parti del mondo la gente non si sa vestire che è diverso non sanno ristrutturare le case io vedo opere di ristrutturazione che ne so in Francia in Londra in America che fanno cagare rifiniture che non esistono costa azzurra in un albergo top io che ho anche una ditta cose che dici ma come cazzo noi a Tulum abbiamo visto tutto un quartiere nuovo che sta crescendo che alcune case dureranno 3-4 anni forse poi saranno capito allora in Italia in Italia il giudizio è una roba che ovviamente ci persegui da un po' ed è un limite che dobbiamo superare allora se ti va tagliamo il ritmo della conversazione con una cosa particolare e poi torniamo allora preparate un gioco vai hai tre possibilità c'è il mazzo di carte con le domande sul denaro il mazzo delle carte con le domande sui tabù e le persone che poi chiaramente vedranno il video possono scrivere nei commenti quale domande ci saranno per i prossimi ospite oppure c'è la macchina della verità e che cambia tra tutte queste cose devi scegliere tre ne devo scegliere una puoi scegliere la domanda dai tabù la domanda dal denaro o la macchina della verità sono tutte domande allora invece di pensare a me devo pensare a cosa può essere utile alle persone bello mi piace allora le persone sicuramente vogliono la macchina della verità perché vogliono farsi sempre i cazzi degli altri ma la loro vita non migliorerà con questa già la scelta è psicologica è vero perché ho appena detto che l'intrattenimento è diverso dal valore esatto quindi le persone vorrebbero questo ma sappiate che questo è quello che il mercato vi vuole dare per togliervi la vostra vita qui non c'è nulla di utile per la vostra vita ci piace questa considerazione quindi questa è la scarto sì poi quindi questa gli mettiamo questo smile di incertezza e la lasciamo qua poi denaro e questo che cos'era tabù dimmi tabù di più così posso capire tabù i tabù dentro c'è tutto non c'è ci può essere il tabù sul denaro il tabù su tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato allora noi ci limitiamo molto col tabù viviamo male il sesso per i tabù viviamo male il denaro con i tabù potrebbe essere utile il denaro è tutto sul denaro quindi che è scontato anche rispetto a quello che abbiamo già detto beh però in realtà se vuoi migliorare la vita non la migliori ce ne serve tabù anche più rischioso perché dentro ci sono tutti gli argomenti allora se devo fare il coraggioso e fare una bella figura prendo tabù ecco lo sapevo allora facciamone due avresti una e una così faccio felici le persone bravo da cosa parto? dal denaro ci riscaldiamo dai dal denaro mischio vai mischio perché non si può mai dire che sono di meno le domande sul denaro poi il problema per me questi giochi è che io devo dire la verità cioè è una roba mia quindi è un problema questa roba è un problema tuo cosa? dire la verità ah allora basta pesca leggi pure se vuole go io ok hai mai detto no ad un familiare che ti ha chiesto del denaro? wow allora devo ricordarmi se mi hanno chiesto del denaro i miei familiari allora non gli ho detto no ma in realtà non mi hanno mai chiesto più di tanto denaro ok quindi ti può essere capitato ma niente di significativo sì e non avrei non avrei problemi a dire no se mi fanno delle richieste se questo vuole sapere sta carta perché è importante poter dire di no può essere utile può essere sbagliato perché sai un familiare che ti chiede di soldi gli dice di no è proprio il valore della carta bellissimo mi hai aperto una porta utilissima alle persone e la domanda non l'ho scritta io ma la mia compagna che devo dire no no mi hai aperto una porta anche con quello che hai detto adesso allora secondo me prestare i soldi agli amici e ai familiari ok se è prestare sbagliato se non c'è dietro un progetto sì ok cioè se viene da te l'amico e ti dice oh cacchio sto in difficoltà non c'ho soldi io l'ho dati certo e l'ho perso certo tanti certo tanti anche quando non ce ne hanno tanti e nel momento in cui glieli dai non è un regalo ascolta no allora se li presti è sbagliato a priori perché è sicuro che non ti torneranno esatto perché quello che hai davanti è un fallimento una persona che è incapace di gestire il denaro quindi se non hai imparato in 20, 30, 40 anni e se non te li ridà c'è il rischio che salta il rapporto di amicizia no perdi quei soldi e perdi pure l'amicizia questo è il motivo per cui dico di non darli se invece tu vuoi fare beneficenza e tu sai che li dai e li perdi ok se li vuoi dare dalli ma sappi che li dai secondo me allora è un aiuto non è un aiuto non è un aiuto bisogna insegnare a pescare non a dare pesci ecco perché torno sempre alla scuola all'insegnare cioè io se dessi i soldi alle mie associazioni do tutti i soldi finiscono se non si crea un circolo economico o se non crei quindi una educazione finisce e questa carta ce la siamo giocata esatto mazzo tabù potrebbe essere più complicato complicate sono altre cose attenzione attenzione pesca andresti a letto con la persona davanti a te ma chi cazzo è scritta questa domanda davvero è vera no non è questa ah ecco il sogno che non hai ancora realizzato eh ci sta guarda per te ci sta solo al leggerlo mi è venuta la pelle d'oca eh che è collegato a quello che abbiamo detto poco fa quello ok quello di rendere la formazione un qualcosa eh di di pubblico dominio di utile che deve essere anche nello stato io nel 2017 non te l'ho detto l'ho saltata sta parte qua sono andato da un amico che conoscevo in regione e gli ho detto ho in mente di fare delle cose utili per gli altri gratuitamente e la prima che voglio fare è rivedere alcuni modelli formativi con dei contenuti utili che mancano nella formazione ti dico un'altra cosa che la cosa bella mi hanno fatto la pernacchia di essere al mio posto adesso è che la percezione che io ho stando qui con te è della persona mentre se io ti vedo online posso percepire il tuo messaggio ed è una cosa bellissima che io mi porterò via e non posso augurare a tutti di essere dalla mia parte però la vibrazione che arriva da persona è una cosa molto bella ed è molto diversa da quello che si vede online e sarebbe la cosa che dovrebbero ricevere le persone probabilmente andando in aula sul palco loro potranno farlo perché sono vicine a te sì ma non solo anche nei basta che stanno in un mio webinar insomma se riesco a parlare un po' ovvio che se vedi un messaggio un ads di 30 secondi 60 secondi che cosa vuoi dire a una persona grazie comunque del del complimento ho una piccola parte dedicata al mondo comunque chiudo la ho bussato la porta per fare questa roba gratuitamente mi hanno fatto la pernacchia proprio quasi hanno riso no? ok io ho visto l'espressione di questa ero due persone quello che mi ha portato per consigliare ha proprio mezzo riso ok quando sono uscito sono uscito molto demotivato ok ero pronto a fare una guerra ho detto quasi quasi sui social comincio a dire sta roba qua raccontare vedi il discorso di attaccare ero pronto ad attaccare invece ho detto faccio la mia scuola sì ecco ora vai sugli investimenti vai tu hai realizzato una cosa che io ho sperimentato personalmente io un po' di anni fa aiutai una una startup di crowdfunding che oggi diciamo ha messo il nome sulla maglia dell'inter e crowd facciamo una campagna di raccolta eccetera eccetera hai fatto un portale di crowdfunding quindi è una possibilità di investimento è il futuro che cosa ne pensi di questo crowdfunding soprattutto sugli immobili che è più semplice da comprendere meno rischioso rispetto alle aziende è una forma di investimento che tu hai creato e come come la reputi rispetto ad altre forme di investimento allora secondo me di base c'è anche un aspetto sociale non trascurabile che è democratizzare un po' gli investimenti prima le persone andavano in banca è come se fosse un problema avere il denaro risolvimelo tu sto problema e ti dovevi far dai consigli da quelli che guadagnavano da quelli che guadagnano 1500-2000 euro al mese su come diventare ricco ma se questi sono così bravi a far soldi a diventare ricchi non stanno a essere schiavi di lì in giacca e cravatta a prendere 2000 euro al mese uno già dovrebbe farsi sta domanda dato che io i soldi ce li ho persi un po' di volte oggi al di là che questo sistema è un sistema anche utile a me perché mi permette di fare operazioni più grandi e di estendere la sfera quindi imprenditoriale è un pochettino come avere una banca perché puoi finanziare le tue operazioni in realtà oggi noi siamo stati proprio decretati come banca in senso noi abbiamo preso ultimamente la patente europea e possiamo proprio raccogliere soldi dal privato cosa che lo fa un SGR lo fa una banca quindi noi oggi siamo autorizzati siamo tra i primi quattro in Italia se non voglio dire stupidaggine ma c'è il mio socio Armando Perrone ovviamente che cura tutto il progetto noi siamo stati forse i primi a mandare la richiesta ma i quarti o quinti che fu il motivo per cui mi interessò il progetto quando l'ho preso in considerazione perché poi tu alla fine puoi promuovere la piattaforma in qualche maniera come modello di vestimento quindi qualcosa che potevano fare solo le banche che qualcuno si può fare allora in realtà quindi questo primo aspetto sociale è importante il secondo è anche un po' culturale tornando proprio a quella formazione che non deve essere formazione ma deve essere un qualcosa che rientra perché oggi la formazione viene vista come una cosa in più invece secondo me ognuno deve essere acculturato su come gestire come investire il denaro oggi attraverso le diverse piattaforme le persone possono diventare investitori e quindi iniziare a scegliere direi ma li metto qui li metto là ma quanti ne metto qui ma differenzio cioè iniziano a essere loro i gestori del loro portafoglio poi possono ovviamente in parte delegare perché mettendo su una piattaforma poi è la piattaforma che fa un certo tipo di lavoro ma sei tu che fai il money management sei tu che fai il risk management rispetto a quello che prima accadeva in banca perché io in banca firmavo io non sapevo neanche dove andavano mi dicevano no metti qua il brick poi c'è quello questo è il rischio moderato questo è un po' più il rischio così alla fine qualche volta prendevo soldi e poi me ne ho persi quindi in banca hai investito anche in azioni si come no io nel 2009-2010 ho preso una botta lì su 100 capitale faccio un esempio quota 100 capitale e mi sono ritrovato con 20-30 ma quindi oggi non investi più in azioni non ci credi no 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 a meno che non le compro direttamente io allora se compro gli ETF compro delle partecipazioni quindi non credi al modello della banca però all'azionario credi allora no non ti piace non mi piace quanto l'immobiliare cioè l'azionario purtroppo è volatile così non parliamo delle cripto a lungo certo quindi dato che io mi faccio un mazzo tanto per far soldi io non voglio vedere i soldi che volano via quindi per te prima di tutto come dicevi prima è non buttare soldi anche se lo fatti anche a 20 euro e non perdere soldi in qualcosa che posso poco gestire esatto allora dato che oggi i soldi li faccio con le aziende ok dove tu gestisci esatto i ristoranti piuttosto che altre attività che ho come li faccio nelle operazioni immobiliari dove tu gestisci dove io gestisco quelli che io non gestisco li metto nelle operazioni comunque in piattaforma ok perché comunque lì mi prendo l'8-9-10% che non ti dà nessuno su operazioni dove tu conosci gli emittenti esatto cioè dove comunque sono tranquillo mentre la volatilità del mercato azionario dove tu non puoi contribuire perché non vai da un mascher e gli sai fare le macchine o robot non ti piace allora o ce n'hai dici sai c'ho un miliardo di cui faccio un portafoglio e 100 milioni li metto là a senso ma a me la pura speculazione per far soldi ti dico la verità non è che mi fa impazzire però se qualcuno mi chiede Leonardo si possono fare soldi come no basta vedere quello che ha fatto Warren Buffett quest'anno no ma quest'anno c'è stata una bella crescita in generale 22% quindi secondo me ci stanno margini però è sempre un po' ti affidi alla maga cioè o alla teia vendata perché se c'è una guerra se scoppia qualcosa cioè ti fa un meno come dice i bitcoin sono buoni ma probabilmente si compri sono buoni a 15 mila euro sì cioè io qualcosa ho preso però è una roba che manco quei soldi se spariscono domani a me non mi cambia niente certo non è che penso che ci faccio soldi i famosi soldi che puoi perdere esatto te lo dicevano in banca quando andavi era l'unica cosa giusta che ti dicevano ma in banca sinceramente questa roba io non me l'hanno mai detta non te l'hanno mai detta è una classica frase da corridoi mai detta investi solo i soldi che puoi perdere mai detta come se uno volesse perdere i soldi al contrario a me c'era un bellissimo assist che il mio consulente mi faceva col promotore che ogni volta mi rimandava guarda non tenere i soldi qui buttali di là cioè non ho quelli che puoi perdere tutti vanno di là cioè non so se siamo andati in banche diverse ma io ho avuto sempre la grande spinta non voglio parlare del mare delle banche o quelli fanno lavoro loro sono aziende la gente non capisce zero del risultato perché loro guadagnano sullo spread guadagnano sulle commissioni quindi perdi i soldi tu loro hanno presi quando hai versato punto questa è la realtà mi è piaciuta una domanda che vuoi fare a me ti va? io so poco di te quindi che domanda ti posso fare cosa ti porta a fare questo programma? bella domanda quattro cose la prima avere visibilità che è una cosa sempre importante la seconda è che io mi occupo di investimenti quindi è chiaro che creare relazioni con le persone che vengono qua è una cosa importante perché dall'oggi a domani o all'altro appuntamento può quindi quando spegni la telecamera mi chiedi i soldi? no non si chiedono mai i soldi sto scherzando bisogna farsi comprare bravo esatto la terza cosa è che oggi parlavamo prima di come cambia il web e di come una volta si compravano i giornali o Elon Musk ha comprato X che era Twitter una poltrona da cui poter dire quello che si pensa o avere la possibilità di avere un ospite che dice certe cose rispetto a certi argomenti è più che mai importante sono d'accordo e il quarto motivo è tecnico l'ho scoperto questa mattina forse tu lo sai già che i nuovi algoritmi nuovi io parlo nuovi di un po' di tempo associano tu parli di Instagram? parlo di TikTok sicuramente ma quanto pare c'è stata un'evoluzione su tutti associano diciamo il viso della persona che è intervistata e quindi noi avremo diversi anche VIP tu sei conosciuto sicuramente ma al podcast danno visibilità perché associano chi è nel contenuto e quindi fanno crescere di molto la popolarità la visibilità del contenuto e di chi sta con questa cosa quindi sono quattro motivi per me molto importanti quindi ho deciso di realizzare questo progetto che per me sarà un asset e sarà un investimento su cui io posso avere un controllo perché penso che nella mia visione dei prossimi tre anni perché andare più in là non ha senso questo sia un ottimo investimento e sia difficile perché non è che ognuno si apra un canale e ha ospiti importanti domani mattina e può fare questo quindi alza un po' l'asticella e mi piaceva esserci e poi l'ho fatto con Lorenzo che conosco e tu conosci è una persona molto in gamba altrimenti l'execution io non me la sarei portata in casa perché bisogna saperla fare bene complimenti come vuoi chiudere? ma con un invito alle persone capire che tutto quello che loro oggi non hanno non dipende da quello che sono ma da quello che sanno e soprattutto che non sanno di nuovo piacere questa volta dopo averti conosciuto di più e grazie di essere venuto è stato un piacere in bocca al lupo grazie a presto grazie a tutti